Un'indagine partita a seguito di diversi episodi di rapina che avevano un po' allarmato l'agronocerino sarnese però riteniamo di essere riusciti a individuare una coppia e insieme a questa coppia il figlio della convivente dell'arena che ormai da tempo stavano imperversando nella zona. Una cosa molto importante è una motocicletta particolare, il T-Max, con la quale la coppia andava a conviere le rapine. Sì, in tre dei quattro episodi contestati ricorreva questa motocicletta, in un'altra rapina invece gli autori si sono avventurati a rubare peraltro anche una macchina. Comandante, riusciamo a quantificare il numero delle rapine? Al momento con certezza gli episodi contestati sono quattro, ma stiamo valutando se la coppia più il figlio della donna siano responsabili anche di altri episodi.